non fa niente ok questo è bellissimo oh a me va bene aspettare tanto il quadratino mi da la vincita gg oh vabbè non riesco a muover che merda oh mi ha dato un trofeo ah? sultan of the swing chi metta però vuoi che ti dico come liberarti? come mi dovevi liberare? forse mi hai saltato? si no ah c'è pazienza oh god